Una prima regionale al Teatro Mecenate di Arezzo per aria, l'ultimo lavoro dedicato alle nuove generazioni firmato da Giorgio Rossi in collaborazione con Savino Maria Italiano e le musiche di Livio Minafra. Lo spettacolo apre la rassegna alla danza che muove a cura di Sosta Palmizzi. Lo spettacolo nasce dall'intento di trattare una tematica che c'è molto a cuore, cioè quella dell'aria, ma non solo dell'aria come elemento fisico, quindi dell'aria che respiriamo e dell'aria come leggerezza, ma anche inteso come esperienza dell'infanzia. Infatti per questo lo spettacolo si chiama Per aria, perché abbiamo voluto raccogliere un po' di suggestioni proprio per poter rievocare l'attitudine che hanno i bambini, cioè di stare con la testa per aria. È uno spettacolo rivolto a tutte le età, possiamo dire, partendo dai bambini di 5 anni fino a, come ci piace dire, 105 anni, perché è uno spettacolo che regala un'oretta di divertimento, leggerezza, spensieratezza, ma anche riflessione, e spazia tra il teatro, la danza, la parola e la storia di tre bambini che viaggiano con la fantasia nella loro cameretta. L'appuntamento è per domenica 27 ottobre alle 17, a seguire lo spettacolo Sarai Replica, sabato 28 ottobre alle 9 e alle 11 per le scuole del territorio. Essendo un veicolo per l'immaginazione ti permette di creare dei mondi, anche concreti, e quindi nelle scuole è importante dare accesso, lasciare accesso ai bambini per lavorare con la loro mente, con la loro testa, e quindi lavorare sulla loro immaginazione, sulla loro capacità di mettere in pratica poi quello che in modo creativo riescono a creare. E questo è il gioco poi alla fine, che si raggiunge anche poi quando si diventa adulti, bisognerebbe contenerlo ancora, mantenerlo vivo. Grazie a tutti.